Nel giorno della festa della donna la polizia di stato con i suoi agenti in divisa è scesa in piazza anche a salerno in piazza portanova per ricordare a tutti che le donne vanno rispettate sempre e che la questura di salerno è a disposizione delle vittime di violenza in piazza con il progetto questo non è amore le donne in divisa hanno distribuito mimose e materiale informativo una simbolica presenza per ribadire l'impegno al fianco delle donne ha spiegato ai nostri microfoni la dirigente della divisione anticrimine giuseppina sessa in piazza con il vice dirigente della squadra mobile vincenzo alagia per ribadire la loro disponibilità ad ascoltare le donne per trovare insieme la giusta soluzione la campagna questo non è amore serve proprio a far sapere alle donne che la polizia c'è e ci sono i modi per uscire da situazioni da cui da soli invece non si riesce a vedere la via d'uscita il numero unico di emergenza 112 per chiedere aiuto sempre o anche il 15 22 della rete nazionale antiviolenza un appello per chi è in difficoltà ma anche per quanti come ad esempio i vicini di casa sono in ascolto di violenze per paura e per vergogna non si denuncia però la nostra campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e proprio viene fatta per questo motivo per far capire alle donne che non sono sole e soprattutto che non si sono vergognare non c'è nulla da vergognarsi soprattutto coloro che devono vergognarsi sono i partner i ex mariti o gli autori di queste condotte violente colloqui da donna a donna quale amica migliore una donna in polizia che può ascoltare ma soprattutto ti può aiutare sì è vero nell'ambito della polizia di stato ci sono delle investigatrice di gli investigatori specializzati proprio sulla violenza sulle donne e riescono a capire a captare qualunque segnale che per altri potrebbe essere un segnale inconsistente inutile però per queste ragazze e per questi ragazzi della polizia di stato che combattono la violenza contro le donne qualunque racconto anche un racconto di uno di un fatto successo di un accadimento che può sembrare ininfluente può dimostrare che ci potrebbe essere un escalation di violenza sicuramente ha tenuto maggiormente le persone in casa ma allo stesso tempo ha acuito anche una serie di difficoltà e talvolta anche di violenza in un nucleo familiare allora noi io quello che posso dire a chi ci ascolta è che la polizia di stato così come i carabinieri sono a disposizione con il numero unico delle emergenze 112 a cui si può chiamare non è detto che debba essere sempre la vittima a chiamare questo numero ma anche un condomino un vicino di casa perché ricordiamoci le violenze che capitano e ci sono in un appartamento vengono inevitabilmente ascoltate anche dai vicini di casa i bambini che urlano un marito che 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 urla che picchia si sente e quindi le telefonate vi ricordo possono essere anche anonime sia sul 112 ma abbiamo anche l'app you poll anche l'app you poll nata originariamente per bullismo e droga è stata estesa la violenza domestica anche in quel caso la la segnalazione può essere anonima e verrà presa in considerazione grazie